Protocolli e procedure. Su queste due direttrici puntano le indagini e la procura di Avellino per accertare eventuali responsabilità sulla morte di Domenico Fatigati, travolto dal nastro trasportatore giovedì scorso all'interno dello stabilimento Stellantis di Prato la Serra. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno eseguito capillari attività investigative nel reparto dove è avvenuto l'incidente e raccolto numerose testimonianze degli operai che si trovavano in prossimità del reparto Basamento Motori. Fatigati è intervenuto per sbloccare il nastro che si era inceppato. Quando ha ripreso a funzionare è stato travolto dal braccio meccanico che gli ha schiacciato il torace. L'altro fronte riguarda la MS Automazioni di Foggia, la ditta per la quale lavorava Fatigati. Lavorava in subappalto per una ditta di Pesaro a cui Stellantis aveva aggiudicato l'appalto per la manutenzione degli impianti, il cosiddetto subappalto a cascata. Lei mi dà un appalto a me, io lo do a questa persona che ho in c'è, lui glielo dà un'altra e lui glielo do un'altra ancora. Quindi dal contratto base che diciamo così negli editori come lei, me lo passa a me come giornalista e questa filiera al ribasso erode. Anche se formalmente la parte sulla sicurezza resta, che so io, il 35% dell'appalto, però il valore totale che è partito da 100 corre il rischio di arrivare a 50%. Il problema è capire se nello stesso luogo di lavoro ci devono essere pari condizioni economiche di dignità. Quindi non solo il subappalto ma anche che tipo di precarietà c'è e va eliminata. Perché se noi continueremo a fare una gara al ribasso rispetto al lavoro di chiunque contribuisce a fare andare avanti anche questo studio, caro direttore, noi non ne usciamo.